Upas, trame al 25 novembre, Alice interessata a Nunzio, Manlio e Nico vogliono vendetta. Sorprese e colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Un posto al sole in onda dal 21 al 25 novembre su Rai 3. Le trame dello sceneggiato rivelano che Alice Pergolesi apparirà interessata a Nunzio Camarota. Manlio Picardi, invece, vorrà unire le forze con Nico Poggi per vendicarsi di Lello. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le prossime puntate trasmesse dal 21 al 25 novembre, annunciano il ritorno di un personaggio a Napoli. Di recente, la storia d'amore tra Marina e Roberto ha subito un momento di stop. L'imprenditore, infatti, non è riuscito a convincere la donna dei propri sentimenti quando entrambi erano stati sequestrati da Fabrizio. Per questo motivo, la signora Giordano ha deciso di prendersi un periodo di riflessione. Decidendo di trasferirsi a Londra. Una vacanza che comunque sarà breve, visto che a breve è previsto il ritorno della donna a Napoli insieme alla nipote. I portali annunciano intanto che Alice Pergolesi si interesserà alle bellezze locali. La bella ragazza potrebbe mettere gli occhi su Nunzio Cammarota, rimasto solo dopo la partenza di Chiara Petrone. Difatti i due giovani avranno modo di avvicinarsi in più occasioni. Ma non saranno gli unici colpi di scena in quanto Nico Poggi continuerà a essere il protagonista delle prossime puntate di Upas. Dagli spoiler si evince che il giovane potrebbe avere una sorta di involuzione negativa. Di recente, Nico ha dimostrato di non riuscire a superare il dolore della perdita di Susanna. I portali annunciano che Manlio tornerà nelle dinamiche dello sceneggiato, facendo una proposta incredibile all'avvocato. Tutto partirà nel momento in cui si diffonderà la notizia che lei e lo valsano, il malvivente che ha ferito a morte Susanna e ridotto in gravi condizioni viola. Potrebbe avere uno sconto di pena. Una novità che manderà in tilt Nico, ancora schiacciato dal dolore. Ben presto crescerà in lui il desiderio di rendere giustizia a Susanna. Per questo motivo, Manlio avrà intenzione di coinvolgere Poggi nella tremenda vendetta contro Lello. Una richiesta che sarà accettata dal padre di Jimmy. Difatti, sempre più fuori controllo. Arriverà a procurarsi del denaro per pagare un sicario che dia una lezione o valsano all'interno del carcere.